Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra accensione del Realme X3 Super Zoom quindi il nuovo dispositivo di casa Realme appartenente a una fascia media in quanto comunque viene commercializzato a poco meno di 500€ ma che presenta una particolarità ovvero il periscopio un sensore zoom che permette uno zoom ibrido quindi insieme tra ottico e digitale fino a 60x una caratteristica che rende effettivamente questo X3 Super Zoom differente da tanti altri dispositivi di fascia media sebbene comunque in termini di prestazioni di caratteristiche tecniche esterne a questa particolarità non sia particolarmente differente perché ci troviamo di fronte al classico dispositivo con display IPS LCD con 4 sensori posteriori e con processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus scopriamolo quindi da vicino vediamo se effettivamente questa caratteristica lo rende speciale tutto dopo la nostra sigla Realme X3 Super Zoom presenta dimensioni in linea con quelli che sono gli ultimi dispositivi di casa Realme raggiunge quindi 163,8 x 75,8 x 8,9 mm di spessore con un peso che si attesta attorno ai 202 grammi tutto ruota quindi attorno allo spessore e al peso è effettivamente abbastanza spesso quindi si fa sentire nel momento in cui lo avete in mano ed è abbastanza pesantuccio lo diciamo sempre nel momento in cui noi sfondiamo i 200 grammi comunque ci arriviamo ci troviamo di fronte ad un terminale ingombrante che non sarà poi così maneggevole ha un form factor abbastanza comodo proprio nell'utilizzo quotidiano lo consigliamo ad utenti che non hanno le mani troppo piccole perché essendo comunque un display da 6.6 pollici è difficile da raggiungere nella sua interezza nell'utilizzo con una mano il dispositivo è realizzato interamente in plastica la scocca posteriore presenta una buonissima, una bellissima finitura opaca che non trattiene praticamente le impronte quindi difficilmente lo sporcherete chiaramente non è anti impronte ma si sporca davvero molto ma molto poco e offre bellissimi giochi di luce le camere sono posizionate in alto a sinistra in verticale come classico in tutti i Realme e sono abbastanza in rilievo questo X3 Super Zoom presenta effettivamente camere molto in rilievo rispetto ad altri e nel momento in cui lo posizionate su un piano di lavoro ballerà non poco ed è anche questo un aspetto da tenere assolutamente in considerazione perché potrebbe dare un po' di fastidio sui bordi abbiamo la connettività sul lato sinistro tasti del volume superiormente il microfono per la riduzione del rumore lato destro tasto di accensione e spegnimento con incastonato il sensore per le impronte digitali mentre inferiormente USB Type-C altoparlante che è mono quindi non esce dalla capsula auricolare e carrellino per le SIM che non potrà accettare una microSD per l'espansione della memoria quindi noi potremmo inserire solamente le SIM anteriormente invece abbiamo un ampio display da 6.6 pollici non curvo con cornici molto sottili in quanto comunque il rapporto schermo corpo è del 90,5% molto ben fatto e con un foro allungato infatti presenta due sensori che vedremo dopo essere un sensore principale e un grandangolare non essendo curvo dovrebbe comunque piacere alla maggior parte di noi ed è comunque molto ma molto ampio parlando proprio del display come ho detto è da 6.6 pollici IPS LCD 16,6 cm di diagonale frequenza di aggiornamento a 120 Hz risoluzione Full HD Plus a 2400 x 1800 pixel e protezione Gorilla Glass 5 essendo IPS LCD chiaramente non è di qualità superiore ovvero non è un AMOLED né ovviamente un OLED ciò differenzia già questo X3 Super Zoom dagli ultimi top di gamma di casa Realme perché lo individua perfettamente nella fascia di prezzo in cui è stato posizionato però devo dire che comunque la differenza se dovessimo confrontarle si vede rispetto ad un AMOLED ma è comunque un buon IPS LCD di fascia medio alta perché i colori sono ottimi ha una buona luminosità gestita perfettamente dal sensore posizionato nella parte anteriore e nell'utilizzo di circa un mese non mi ha dato particolari difficoltà è abbastanza dettagliato i colori sono precisi sono ben fatti e non sono neanche troppo saturi o vivaci nonostante comunque dalle impostazioni della Realme UI si possa naturalmente scegliere la temperatura del colore allo stesso modo abbiamo comunque una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che va a rendere questo terminale decisamente più fluido rispetto ad un classico 60 Hz il processore invece pinge il Realme X3 Super Zoom verso la fascia alta in quanto è un Qualcomm Snapdragon 855 Plus processo produttivo 7 nanometri octa-core 2.96 GHz di frequenza di clock e il GPU Adreno 640 affiancato da varie versioni ovvero 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X con 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.0 purtroppo non è espandibile quindi fate bene i conti nel momento in cui l'ho acquistata qualità in questo caso altissima non è l'865 perché comunque nel momento in cui è stato progettato il top di gamma assoluto era l'855 Plus ma allo stesso tempo permette di utilizzare il terminale e posso fare anche a meno praticamente di dirvelo con qualsiasi applicazione con qualsiasi gioco facciamo i nostri soliti test ma saranno molto rapidi perché davvero c'è poco da dire proviamo ad esempio ad aprire Facebook vedete si è aperto rapidissimamente allo stesso modo il feed si è caricato molto rapido e avendo impostato 120 Hz di frequenza di aggiornamento faccio vedere il mio solito test vedete come è fluido e come ha caricato rapidamente il feed quindi è davvero un ottimo terminale perfetto sotto almeno questo punto di vista io posso tornare al menu precedente e aprire ad esempio Instagram che è di solito quello un po' più difficoltoso ma vedete che anche in questo caso è stato rapidissimo anche nel caricamento del feed quindi è davvero un ottimo terminale sotto questo punto di vista perché è davvero rapidissimo ora lo vediamo ad esempio con Asphalt 9 facendo il nostro solito test mettiamo il volume al massimo sentite che è molto alto distorce un po' forse sentite però è molto ma molto elevato è purtroppo solo mono infatti esce solo da qui vedete che se chiudo non si sente più ma è molto elevato sentite l'ultima volta lo riduco al minimo come fluidità come rispetto dei colori non posso davvero dire nulla e non mi sarei aspettato diversamente vedete è fluido è perfetto e ha un'esperienza immersiva proprio data l'assenza delle cornici parlando invece di sistema operativo noi ci troviamo di fronte ad un dispositivo che in intera si basa su Android 10 a Realme UI con patch aggiornate a maggio 2020 almeno al momento della recensione qui la preferenza rispetto ad un'interfaccia grafica rispetto all'altra è soggettiva perché naturalmente sono tutte buone in questo caso abbiamo una buona fluidità con l'aggiornamento di marzo 2020 circa si è completamente rinnovata è una Realme UI che sostanzialmente è identica alla ColorOS intera tutte le funzionalità quindi spazio gioco possibilità di clonare l'applicazione di dividere lo schermo l'assistente virtuale intelligente la barra laterale che può essere spostata può essere personalizzata con l'aggiunta di applicazioni o quant'altro intera le gesture e naturalmente la possibilità di aggiungere l'assistente virtuale ovvero l'assistente Google sul tasso di accensione e spegnimento mantenendo la pressione per 0,5 secondi come interfaccia è fluida non abbiamo notato l'acqua né rallentamenti di sorta parlando invece di connettività questo dispositivo non raggiunge il 5G questo è un aspetto molto importante da tenere assolutamente in considerazione 4G fino a 2 gigabit per secondo il download è praticamente irraggiungibile voglio vedere chi effettivamente li raggiunge wifi dual band AC bluetooth 5.1 gps usb type c nfc e manca come purtroppo in tanti il jack da 3.5 mm la batteria in questo caso è da 4200 mAh garantisce ricarica rapida a 30 watt no wireless e no inversa come durata io personalmente due giorni li ho fatti sempre senza particolari problemi mentre se dovessimo parlare di ore di display ricordando che nel mio caso un dispositivo media batteria ha circa 4 ore di display attivo sempre secondo i miei test in questo caso ho raggiunto 3 ore 45 minuti di display attivo con 19% di carica residua e allo stesso modo in un altro test mi sono fermato a 4 ore 47 addirittura di display attivo con il 20% di carica residua naturalmente la differenza la fa in base all'utilizzo che uno ne fa del dispositivo se come nel mio caso ho tante applicazioni attive in background è chiaro che il dispositivo si scarica più rapidamente senza utilizzare il display il fatto del display è comunque un aspetto che io tengo sempre in osservazione perché tanti lo vogliono sapere e può essere un metro di paragone perché io praticamente utilizzo tutti i dispositivi proprio in maniera uguale proprio per avere un metro di paragone arriviamo ora a parlare del comparto principe ovvero il comparto fotografico questo era il mix 3 super zoom presenta 4 sensori posteriori suddivisi in un principale da 64 megapixel apertura f1.8 è una samsung gw1 quindi il sensore è un samsung da 26 mm e angolo di visuale 78,6 gradi questi è affiancato da un grande angolare da 8 megapixel da 16 mm angolo di visuale 119 gradi apertura f2.3 per passare poi su una macro da 2 megapixel f2.4 con messa a fuoco a 4 cm per finire sulla sua caratteristica principe ovvero periscopio 8 megapixel zoom ottico 5x corrispondente a un 128 mm e apertura f3.4 questo sensore è stabilizzato otticamente a differenza del resto che porta una stabilizzazione digitale come qualità quindi noi cosa possiamo dire abbiamo nel complesso un risultato in linea con quella che è la qualità e la fascia di prezzo in cui è stato posizionato l'X3 SuperZone all'aperto abbiamo ottimi scatti un buon dettaglio di tutte le immagini una buona gamma dinamica un buon rispetto dei colori e soprattutto a differenza di tanti altri realmi i colori non sono troppo saturi quindi non è un camera phone non è uno smartphone che raggiunge ad esempio gli smartphone da 700 euro come può essere lo Xiaomi Mi 10 ma allo stesso modo comunque è ottimo sotto un punto di vista fotografico all'aperto al chiuso ha una buona gestione di luce e ombre non è particolarmente saturo ma ha la tendenza come abbiamo già visto anche su altri realmi a rendere l'immagine un po' troppo giallastra con luce artificiale e soprattutto un sensore grandangolare che è quasi inutilizzabile al chiuso perché davvero rende l'immagine troppo scura e va a creare tantissimo devo dire proprio tantissimo rumore la modalità notturna anche essa è discreta perché di base riesce leggermente a illuminare la scena ma nel momento in cui io comunque vado ad attivare la modalità notturna non noto particolari differenze ciò sta a significare che come al solito almeno in questo caso io consiglio caldamente l'utilizzo di scatti in modalità normale perché la differenza poi non è talmente elevata tale da preferire uno scatto in modalità notturna va comunque ricordato che la modalità notturna la potremo attivare su tutti i sensori che siano grandangolari che sia il periscopio che sia qualsiasi altro io potrò attivare modalità standard e modalità notturna parlando invece del periscopio è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione nel momento in cui noi vogliamo effettuare scatti da molto lontano perché di base è uno zoom ottico 5x che però riesce ad ottenere ottimi risultati fino al 10x senza rumore secondo Realme e si può effettivamente fare si possono raggiungere 60x con ibrido ovvero uno zoom ottico e digitale ma in questo caso gli scatti non sono poi così belli perché si genera tanto tanto rumore anche in giornate molto luminose quindi il mio consiglio è di optare naturalmente un massimo di 10x perché il risultato è davvero molto ma molto bello e in grado di distinguere questo Realme X3 super zoom dalla massa i video sono realizzati al massimo in 4k 60fps con i vari livelli di stabilizzazione che abbiamo già visto sugli altri Realme quindi modalità stidi modalità stidi pro che vanno a ridurre la qualità di registrazione di base la stabilizzazione è discreta la possiamo definire in media in linea con gli altri terminali che troviamo attualmente sul mercato proprio perché ci troviamo di fronte parlando al sensore principale una stabilizzazione digitale che diventa ottica solo nel momento in cui viene utilizzato il periscopio qualità di registrazione buona proprio nel momento in cui si raggiungono i 4k a 60fps abbiamo di sicuro una buona fluidità una buona gestione di luce e ombre e una buona gamma dinamica non troppo satura e devo dire di qualità forse un po' superiore rispetto ad altri terminali in vendita a 499€ lo stesso discorso vale naturalmente per le riprese al chiuso anche se in questo caso a differenza di quanto abbiamo detto in termini fotografici forse il dispositivo tende a saturare alcuni colori fin troppo e quindi renderli troppo incisivi rispetto ad una scena che in alcuni casi potrebbe essere un po' più scura anteriormente come abbiamo detto sono presenti due sensori un sensore principale da 32 megapixel Sony MX616 apertura f2.5 angolo di visuale 80.4 gradi e un grandangolare o meglio un ultra grandangolare da 8 megapixel apertura f2.2 angolo di visuale 105 gradi questa combinazione può tornare utile proprio perché si ha la possibilità di realizzare scatti grandangolari con amici o quando si è in tanti senza dover allontanare particolarmente il dispositivo ma se il sensore principale funziona bene perché ha buona gestione di luce e ombre e buonissimi scatti proprio anche con luce solare diretta o contro luce in quanto riesce a scontornare bene il soggetto e a non bruciare particolarmente l'immagine come abbiamo già detto sull'X50 Pro anche in questo caso il sensore grandangolare tende purtroppo a rendere l'immagine troppo satura troppo contrastata quindi la differenza è talmente elevata tra uno scatto e l'altro che a mio dire a mio parere non è quasi nemmeno sufficiente lo scatto realizzato con i sensori grandangolari perché è fin troppo pompato ricordando che tutti i miei test sono realizzati con intelligenza artificiale spenta e HDR impostato in automatico proprio per evitare che già di base l'intelligenza artificiale vada a saturare troppo le immagini lo sblocco del terminale può avvenire in due modi sfruttando sblocco del viso 2D o sfruttando il sensore per le impronte digitali posizionato sul tasto di accensione spegnimento lo sblocco può avvenire anche senza la pressione io posso semplicemente appoggiare il dito e vedete che si sblocca si sblocca rapidamente senza effettivamente andare a schiacciare il tasto di accensione spegnimento sentite che io lo appoggio lui si sblocca rapidamente è davvero molto rapido molto preciso vi faccio vedere ad esempio nel momento in cui io cerco di sbloccarlo con un altro dito non si sblocca lui adesso vibra se lo schiaccio vedete che entra nella schermata di sblocco ma lui non si sblocca e nel momento in cui io vado a premere troppe volte poi mi chiede la password proprio per evitare che vi si possa accedere in maniera non idonea ma in questo caso è molto rapido allo stesso modo io posso utilizzare lo sblocco con il viso lo riattivo non utilizzando il dito che è registrato e vedete che è un po' più lentino perché ci mette un secondino molte volte vedete che va nella schermata di sblocco ma poi mi riconosce bene senza particolare difficoltà come al solito la differenza tra il sensore per le impronte digitali e lo sblocco con il viso si vede e infatti io preferisco sempre lo sblocco con il sensore delle impronte digitali perché in questo caso la differenza e la lentezza dello sblocco con il viso si vede molto di più ora non ci resta che concludere la nostra recensione con il classico test audio e video su youtube ricordando comunque che l'audio in questo caso è mono ed esce tutto dall'altoparlante posizionato nella parte inferiore in conclusione il realme x3 super zoom è un buon smartphone che vale nel complesso i suoi 499 euro anche se presenta aspetti positivi e negativi che lo avvicinano o lo lontanano da questa fascia di prezzo partiamo prima di tutto dagli aspetti positivi abbiamo il periscopio un sensore che lo rende speciale è diverso ed è già un aspetto positivo proprio il fatto di avere un qualcosa di unico tra virgolette nel suo genere è chiaro che il 60x che può raggiungere ibrido ottico e digitale non è poi così qualitativo ed è davvero da utilizzare con le pinze ma la possibilità di raggiungere un 10x senza avere rumore o perdita di qualità è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione proprio nel momento in cui gli smartphone sono più vicini a macchine fotografiche digitali tra gli altri aspetti positivi abbiamo sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus è davvero uno dei top assoluti chiaramente è stato sostituito dall'865 ma nel momento in cui è stato progettato era il meglio del meglio ovvero verso fine 2019 quindi è uno smartphone che si può utilizzare tranquillamente con qualsiasi gioco o qualsiasi applicazione in ultimo abbiamo una batteria che è buona perché raggiunge i due giorni di utilizzo continuativo e la possiamo ritenere tranquillamente nella media dei dispositivi non è un battery phone ma non è nemmeno da ricaricare tutte le sere va comunque ricordato che il display essendo un aspetto negativo perché è un IPS LCD è al contempo anche un aspetto positivo perché presenta frequenze di aggiornamento 120 Hz quindi molto 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 fluido rispetto ai classici canonici 60 Hz l'altro aspetto negativo a mio dire è l'ergonomia in quanto comunque è molto carino è realizzato tutto in plastica abbiamo questa cover opaca sempre in plastica che non trattiene le ditate ma le camere a mio dire sono troppo sporgenti quindi nel momento in cui io lo vado ad appoggiare su un piano di lavoro balla troppo ed ha effettivamente un po' di fastidio questi sono sostanzialmente gli aspetti positivi e negativi che ho osservato nel corso delle settimane che ho utilizzato questo terminale devo dire che nel complesso i su 499 euro li vale lo acquisterai forse no perché comunque non ritengo essere essenziale il pre-scoppie piuttosto punterei a un dispositivo con display AMOLED e di qualità rispetto proprio ad un terminale che nonostante i sui 120 Hz integra comunque ancora un IPS LCD se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina delle notifiche